Il punto vendita Euronics di Parma via Napoleone Colayan, presso esse lunga via Emilia Ovest propone un appuntamento dedicato agli amanti della musica giovedì 6 dicembre a Riva Irama, vincitore di Amici 2018. Il giovane cantautore italiano sarà presente nel punto vendita, dalle ore 16,30, per passare un pomeriggio speciale con tutti i suoi fans e presentare il suo nuovo album Giovani. Le persone presenti avranno la possibilità di posare per una foto con il cantante e farsi autografare il cd.Cresciuto a Monza, il 22enne Filippo Maria Fanti, in arte Irama, dichiara di essersi interessato fin da bambino alla musica di Francesco Guccini e Fabrizio De Andrè, per poi avvicinarsi all'ipopo. La sua musica è un connubio di diversi generi, influenze e anche vito dalla strada. Il suo nome d'arte significa infatti ritmo in lingua malese. Dopo aver partecipato al Festival di San Reno Sezione Giovani 2016, quest'anno è riuscito a vincere la 17esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Il suo nuovo album Giovani, uscito lo scorso 19 ottobre, è già primo in classifica su iTunes Italia con il singolo Bella è rovinata un brano che vuole raccontare l'amore reale, senza per forza essere una favola. Con le sue nuove canzoni il giovane cantante è pronto a conquistare tutti i suoi fans con il tour iniziato il 24 novembre a Roma e toccherà tutte le più importanti città d'Italia fino a Mediolanum Forum di Milano. Venerdì 5 aprile 2019.Un altro ospite d'eccezione colorerà il pomeriggio. L'evento sarà infatti presentato da Marco Del Torchio, noto personaggio radiofonico della trasmissione 105 Social Club su Radio 105, ma non solo, conosciutissimo dai più giovani per essere uno dei fotografi più quotati del mondo del web e per aver collaborato con i più noti youtuber ed influencer italiani. Grazie a tutti!